Si è svolto nella splendida cornice della riserva naturale dell'Acqua Viva di Marittima, un evento progettato e programmato dall'amministrazione comunale di Diso, che ha intenzione di rivalutare uno dei posti più affascinanti non solo della costa salentina, ma dell'intero bacino del Mediterraneo. Il primo ospite è stato lo showman Geroca Guidi, che si è esibito su un palco incastonato nella meravigliosa cornice dell'Acqua Viva e illuminato dalla luna piena. Per il terzo anno consecutivo il Comune di Diso è riuscito a realizzare Blue Moon, uno spettacolo musicale concepito in una serata d'estate di luna piena, in uno dei posti di mare più belli al mondo, l'insenatura acqua viva, che per l'occasione diventa un vero e proprio palcoscenico naturale. Blue Moon è uno spettacolo che si basa sui concetti di qualità e di bellezza, nonché su una dovuta valorizzazione del nostro territorio. Infatti non poteva esserci posto migliore per poter concepire un evento di tal genere. L'insenatura acqua viva esprime in maniera chiara, esemplare, bellezza e qualità, qualità delle acque, qualità dell'aria, bellezza della natura. Quest'anno abbiamo avuto l'onore di ospitare Gianluca Guidi, un artista meraviglioso che con la sua voce e la sua maestria ha reso ancora più magica la serata. Non vi resta che dirvi ci vediamo il prossimo anno. Blue Moon continuerà.